allora no 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 ok non è che voi venite qui nel mio studio da tatuatore esatto e pretendete di non pagare nulla allora 50 euro sul tavolo subito subito sto scherzando per voi è tutto gratis mannaggia pippo quanto vi voglio bene allora cos'è questo gioco bellissimo è un gioco dove dobbiamo fare dei tatuaggi il cliente di oggi è questo energumeno qua vedete la barba che c'ha lì bello vuole che noi gli tatuiamo una palma si parte dal facile chiaramente per poi andare piano piano verso cose più difficili le cuffie io me le tolgo ma intanto cosa c'è da sentire il rumore della macchinetta eh mettimi a fuoco buongiorno pronti allora ci insegna un attimo eh chiaramente dobbiamo fare la sagoma della palma se la facciamo male ci prende a pizza in faccia questo signore qui questo energumeno è cico cico è bello bello muscolare no ho già sbagliato perfetto e non è molto difficile è molto difficile non so fare nulla cico ti ho sgabbirrato tutta la pelle come la ma non si ma perché prima la devo ah così sto andando bene eh dai sì una meraviglia eh cico sta venendo benissimo vedo che stai facendo delle emoji arrabbiate sbagli perché in realtà sta venendo una meraviglia cico sarai un uomo nuovo conquisterai ammazzi le ragazze del mondo bellissimo guarda qua eh finito ma io direi che è quasi più bello dell'originale non so perché mi abbia dato una stella e mezza ma secondo me non voglio stelle bonus che poi fa partire la pubblicità e ancora che devi fregarmi così eh contento se ne va contento dai voglio upgradare il mio negozio una sedia meglio eh perché esco di fuoco fuoco eh telecamera e tu sti sei intossicata guarda bene la faccia prossimo cliente grazie ah questo qui è piadina vediamo vuoi una palla? mmm un pisello secco questo è proprio andrebbe fatta di un colore diverso però secondo me va bene anche eh la aspetta eh qua dobbiamo riempire perché vuole questo pisello secco nero perfetto alla grande fatta finita? ma questa non era cioè come eh non si poteva sbagliare questa comunque eh questa allora allora io sono qui sono un artista un tatuatore artista cioè voi qua cosa mi proponete? dei disegni che non si possono sbagliare? ma non ci siamo capiti non ci siamo capiti non voglio niente non voglio regali voglio voglio delle cose grazie per quella pianta là dietro era perfetta voglio dei lavori che possano sfogare la mia creatività ok questo qui è piace si riconosce proprio lui è così vuole un cuore se devo di nuovo riempirglielo io mi arrabbio rosso ma così è tro... aaaaa eh questo qua è difficile non è vero vagamente vagamente l'ho un po' fatto male andava fatto con un po' più di precisione perché quando ho pensato che fosse facile è stato lì che poi ho sbagliato però vedi che secondo me è quasi perfetto cioè il fatto che sia un po' più sbordato ai bordi lo rende unico cioè se tu vuoi dici voglio un cuore no perché un cuore è uguale a quello che hanno tutti gli altri che hanno un cuore e poi vibra il telefono che rende tutto molto più difficile invece così un cuore così capito ce l'ha solo piace addirittura noi per esempio siccome lui gli piace l'elisir noi gli facciamo all'interno del cuore per esempio un simbolo per l'elisir non sembra un simbolo per l'elisir però va bene così va bene così non era un pisellino era un simbolo dell'elisir la pozione no vabbè siete volga comunque se ci vedete altri siete un po' maliziosetti ve lo devo dire mi dispiace la verità effettivamente però sembra altro vabbè il cuore però è venuto benissimo e lui è felice due stelle e mezzo quasi tre stelle grazie ma sei benvenuto ma torna pure quando vuoi cosa c'è qui? ah i vari tatuaggi che ho fatto e quanti ce n'è? ah gli altri li sblocco col tempo vabbè ma avanti il prossimo Anna Anna ciao Anna vuoi questo simbolo molto yin yang ma sei venuta nel posto giusto Anna allora però te lo facciamo sportivo perché se no qua non ci andiamo bene allora metà sarà verde acido Anna perché? perché così è solo con il verde acido che puoi trovare la pace interiore senza sgabbirrare in giro però è molto importante è molto importante Anna perché altrimenti poi dopo non sei più contenta infatti stai essendo arrabbiata ho visto ma fai male perché? perché solo così ecclala ho sbagliato sta andando tutto male vabbè allora Anna potrei scancellarlo però non si fa secondo me va bene così Anna eh? wow non ho preso zero stelle vabbè cioè lo possiamo rifare dai rifacciamo mi sentivo male con me stesso di farle sta roba Anna cioè non se lo merita neanche ma io voglio riempire e non posso perché non c'è la linea esterna allora iniziamo a farlo bene così bisogna avere il tratto fermo perfetto hai visto? così già partiamo poi così no così qua facciamo la linea di me e poi che è ancora più eh niente la parte più bella così questo è difficilissimo come tatuaggio però abbi pazienza eh va non sono capace guarda che cosa ho fatto cosa devo fare così? è impossibile allora adesso fatto è meglio di prima great oh quasi due stelle è contenta va bene forse non ci vede bene sarà venuta senza occhiali perché se no non si spiega bello Anna meraviglioso brava ah che be non voglio i soldi perché sennò devo guardare la pubblicità son furbo io ah ci abbiamo paga vestito in verde come lui si veste sempre che cosa vorresti paga? un pugnale un pugnale io lo vorrei fare perché è un VIP però non posso perché non mi partono le pubblicità se volesse il cielo oppure mi partissero quindi devo purtroppo rifiutarti grazie a te per essere passato però ah allora oh facile un numero questa potrebbe essere fairy non so dirvi però un bel numero easy facciamolo anche col colore giusto già selezionato questo gioco è troppo semplice troppo semplice per me questo lo facciamo perfetto vedi perché la signorina è venuta qua con grandi speranze e io non sono nessuno per deludere queste sue grandi speranze va là certo la perfezione non è di questo mondo eh quindi no va bene anche un po' così anche meglio secondo me perché poi te l'ho detto ti distingue da tutti quelli che hanno il numero tu ce l'hai così ed è perfetto sei contenta? quasi perfetto concordo concordo è quasi perfetto non voglio bonus stars grazie va benissimo è incredibile che in questi giochi guardando una pubblicità si può risolvere tutto ti hai fatto una schifezza non importa guarda la pubblicità eh show off fallo in giro mi raccomando è perfetto te l'ho detto ma perché devi dare quella prima un secchio per vomitare mi ha aggiunto no delle boccette ciao ne eh questo qui ci vedo bene di nuovo un piadina calda e vuole una barchetta fatta di patatine penso io ci penso io guarda disegnavo barchette quando avevo due anni te non ti devi preoccupare piadina perché ci penso io cioè sono veramente guarda sta venendo benissimo benissimo il sotto lo dobbiamo fare di un altro colore quindi due colori già mi stai chiedendo anche qualcosa che probabilmente non avevo mai fatto prima però comunque guarda qua perfetto c'ha un tocco di personalizzazione un po' astratto e infatti mi ha dato tre stelle concordo era eccellente questa volta qua era eccellente vediamo se inizia ad arrivare qualche cliente un po' più cioè vorrei qualcosa di più difficile guarda poi come se ne vanno tutti fieri del loro nuovo bellissimo tatuaggio chi arriva? ah di nuovo ciclo in ergumeno non ti è piaciuto un gattino va bene no 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 ognuno è di libero di fare però non te lo faccio te lo faccio rosa spero che tu apprezzerai questa mia botta d'arte che ti ho dedicato perché tu sei venuto qua che lo volevi in un modo ma poi a me mi ha preso l'animo artistico e quindi ho deciso che te lo facevo di un altro colore spero che ti vada bene ma del resto non penso che tu abbia niente contrario no? cioè come fai? come fai a porti un animo artistico come il mio? cioè devi accompagnare solo giusto? e vabbè la coda vabbè la coda è venuta male però il resto è venuto benissimo eh? buono niente stelle allora cico prima di tutto non ti permettere di venire nel mio negozio e poi avere anche delle pretese di poter scegliere il colore no allora allora non mi fai quei gessi non ti permetti prendo a sciaffoni porca misera sulle chiappe non mi è andato bene quello che ho visto quella faccia di sufficienza verso che bei disegni basta non ho neanche soldi non mi paga nessuno cioè sono tutti delusi dal tatuaggio che gli faccio non giochiamoci più che è meglio perché qua mi arriva pure qualche denuncia da questi clienti per i miei tatuaggi che non vengono compresi ci fermiamo qui ragazzi da Lion il grande tatuatore artistico out